L'Ottocento fu storicamente il secolo in cui conobbero l'unità nazionale diversi stati che oggi possiamo trovare nelle cartine geografiche, primo fra tutti l'Italia. Dal confronto tra la cartina del 1815 e quella del 1875 la differenza risulta evidente. Il sentimento nazionale non investì solo la dimensione storico-politica ma anche quella artistica e più specificamente quella musicale. Fino al 1850 circa la scena musicale mondiale era stata dominata dai compositori italiani, francesi e tedeschi. Le altre aree d'Europa non avevano avuto alcun protagonismo musicale. Questo non significa che non avessero avuto compositori ma che questi ultimi dovevano per forza far riferimento ai modelli sperimentati nelle aree dominanti la scena musicale. La rinascita del sentimento nazionale portò alla ribalta nuovi compositori desiderosi riscoprire melodie, danze, ritmi e leggende della propria terra natale. Sperimentarono quindi una contaminazione nuova tra modelli musicali del passato, come dicevamo italiani, francesi e tedeschi, e elementi tradizionali. Dal momento che ogni area geografica aveva le sue tradizioni musicali si svilupparono diverse scuole nazionali. Le più importanti furono in Russia con il gruppo dei 5, in Bohemia con Smetana, in Norvegia con Grieg, in Finlandia con Sibelius e in Spagna con Albanitz. Nei prossimi video analizzeremo le scuole ora menzionate e cercheremo di memorizzare per ogni nazione le opere principali.